Tu si che vales, assurda esibizione di uno dei concorrenti. Stavolta nel programma di Canale 5 abbiamo assistito a qualcosa di unico e mai visto prima. Intanto c'è stato un battibecco tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Dopo una performance Queen Mary si è resa conto di aver votato in modo diverso dal pubblico e ha fatto Ditrofron, ho votato no perché quello che hai cantato e come hai cantato a me non ha trasferito nessuna emozione. Devo dire che se sono seduta qua è per rappresentare la gente che c'è a casa, non in mio parere unico e personale perché non sono un cazzo di nessuno. Quando ha sentito la parolaccia Sabrina Ferilli è rimasta sorpresa e l'ha sottolineata, ma Maria De Filippi ha ribattuto e chiedo scusa per l'espressione ma tu ne dici peggio. Ma che ci asterisco 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 vuoi da me? È stata la risposta di Sabrina. Tuttavia è stato Tony Russo a stupire tutti quanti. Ma chi è Tony Russo? Beh, stiamo parlando di un impresario di pompe funebri. L'uomo ha letteralmente sconvolto giudici, pubblico e tutto lo studio presentando un vero e proprio funerale nella prima puntata del programma di Canale 5. Tutto curato nei minimi dettagli, a cominciare ad esempio dal messaggio del commiato dedicato a Sabrina Ferilli, è arrivato il tuo ultimo ciac e sei già la più bella fra tutte le star del cielo. C'è stato anche il carro funebre su misura. I giudici, inizialmente sorpresi e titubanti, con Sabrina che ha fatto pure le corna quando Maria le ha posizionato vicino dei fiori, sono stati ovviamente al gioco e hanno voluto addirittura provare gli strumenti del mestiere dell'uomo. Maria De Filippi ha guidato il carro funebre, Rudy Zerbi si è superato ed è entrato nella bara. È anche riscaldata, ragazzi, le parole del critico musicale. Poi Jerry Scotti ha chiesto che fosse chiuso il coperchio. E il pubblico come ha preso tutto ciò? Tante risate e sgomento, ma c'è anche chi non ha gradito, io non riesco a ridere. Chi ansia ha scritto un utente. C'è stato poi chi ha cambiato canale e chi ha criticato duramente e contenuto sensibile, sgradevole e fastidioso. A noi, modestamente, è venuta in mente la massima di Zavattini. Ho visto un funerale così povero che non c'era neanche il morto nella cassa. La gente dietro piangeva. Piangevo anch'io senza sapere il perché in mezzo alla nebbia. E voi, cosa avete provato? Grazie a tutti.